Eccoci, buongiorno, siamo con il sindaco di Santa Margherita Ligure. Sindaco, buongiorno. Allora, dopo cinque mesi dalla vicenda della mareggiata che ha sconvolto completamente il litorale qui del Golfo del Tiguglio, è stata riaperta appunto la strada molto importante per Portofino. Quali sono le sensazioni di oggi? Ma intanto, buongiorno e benvenuti. Per noi è davvero una grande soddisfazione essere qui oggi con questa bellissima giornata. A percorrere insieme la strada e collega Santa Margherita Ligure-Portofino, perché è un momento che ha una forte intensità emotiva per noi, è una soddisfazione per il territorio, è rifare quella strada che è stata fortemente danneggiata dalla calamità naturale, dalla mareggiata di fino a ottobre, che ha interrotto il collegamento con la baia di paraggi in cui ci troviamo, che è Santa Margherita Ligure e con Portofino, rifarla insieme a tutti i nostri cittadini, alla comunità di Santa Margherita e alla comunità di Portofino, rifarla insieme anche ai bambini delle scuole che abbiamo messo davanti, a rappresentare che sono per noi non soltanto il futuro ma anche il presente, rifarla con tanti amici, i turisti e gli ospiti di Santa Margherita e Portofino, tutti coloro che amano il nostro territorio. È un'esperienza che ha un grande valore simbolico, poi in realtà ha anche un grande valore concreto, perché farla oggi vuol dire che è stata pronta, prima della stagione vuol dire che abbiamo soddisfatto le richieste di tutto il mondo commerciale, imprenditoriale, ricettivo, turistico, che temeva grandemente di non poter fare la stagione ai livelli consueti. Invece è stato un segnale forse verso il mondo, il mondo che ci guardava, il mondo che ci guardava in modo negativo a causa dei danni che abbiamo avuto, adesso ci guarderemo in modo positivo sapendo che qua abbiamo saputo fare squadra. Ecco, un grande successo sia delle istituzioni locali ma anche regionali, per cui una grande sinergia, una grande forza di unione. È un successo di tutti, è un successo della politica amministrativa positiva che non si fonda sul conflitto ma si fonda sulla sinergia, sulla collaborazione. Sono interessi comuni, diciamo. Sono uniti ai comuni di Santa e di Portofino, con la città metropolitana di Genova, con la regione di Liguria, che insieme hanno lavorato per ottenere questo risultato, hanno condiviso l'obiettivo, hanno unito le forze. Io sono molto riconoscente al Presidente Totti, alla storia Gianpedroni in particolare, che sono stati sempre qua con noi, e ci hanno sostenuto in tante esigenze. Questa è una, ma poi Santa Margherita ha avuto anche molti altri danni, che ad oggi però posso dire che sono in corso di ripristino e dentro Pasqua saremo pronti. Perfetto. Io la ringrazio, Sindaco, e le auguro un bocca al lupo per il proseguo della stagione. Grazie a voi, godetevi questa passeggiata. Perfetto, grazie. Grazie, è stato gentilissimo.